Nessun problema per il Real Madrid nella sfida di Coppa del Re con il Melilla, formazione della terza divisione spagnola Nel ritorno dei sedicesimi i Blancos si sono imposto con il punteggio tennistico di Seum nonostante l'ampio turnover deciso da Solano, per i padroni di casa d'Optech di Asensio Isco, due Eurogold alla distanza per l'ex Magda, e rete di Sanchez e di Nassius, i due talenti Merengu Isco e Asensio, in particolare, hanno mandato l'anfante segnali a Solano, per gli ospiti rete della bandiera di Casimo su Rigoli Il Real aveva già trattato 4-0 all'andata, 10 minuti alla girata, avanza anche il Levante che, dopo il pietro dell'anfante, 1-1, supera 2-0 il Lugo con le reti negli ultimi 10 minuti di Coppa e Guamini, le altre punte avanti anche Betese e Cletic del Val, anche loro agli ottavi di Pia La formazione di Silvio, già vittoriosa all'andata per 1-0, travolge in casa 4-0 il race in Santander con l'autoletico di Perez e i gol di Sanabria, Rigolo, Leone e Lo Celso, i baschi avanzano calando i poteri all'esca, doppiette di Adurisa nel finale di Lujanis, e il sommo successo tenuto all'andata con lo stesso risultato Risultato, lo Sporting John viene fermato sul pareggio in casa dell'Eibar, 2-2, ma si qualifica gli ottavi in virtù del successo per 2-0 dell'andata Risultato, lo Sporting John.